La Vopa La Vopa sveglia? Chi sei? Che ci fate in casa mia? Le domande le facciamo noi Questo chi è? Sono io Che è vietato mangiare un pezzo di focaccia No Ma perché butti i pomodori per terra? Scottavano No Scotta Che ma scotta? Scotta E qua? Dove è spenta la sigaretta poi? E va bene la sigaretta Oh che quella è originale Eh è così ancora più originale Senti stamattina Dove hai buttato la spazzatura? Andavo di fretta E noi per te l'abbiamo raccolta E portata qua No 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 Vi giuro da oggi sarò Sarò un cittadino modello Farò anche la raccolta referenziata Referenziata? Chiamalo Schweinsteiger Adesso viene Schweinsteiger Ed ave deci belle bomboniere che faci Mh mh, belle grosse. Mh mh. No. Oh! Oh! No! No. Oh!